Nell'attesa dell'aggiudicazione definitiva della gara di appalto dei lavori di adeguamento e ristrutturazione del ponte sull'Allaro, seppure appuntate, riprende la discussione circa i collegamenti viari del comprensorio. E mentre cresce l'attesa per la consegna dei lavori e l'avvio degli stessi, entra nella discussione l'organizzazione dei sindaci della Locride, Sinora Silente, Franco Candia, sindaco di Stignano e presidente dell'Assemblea, ritiene che bisogna prendere contatto con l'ANAS per chiedere certezza sui tempi tecnici per ridurre i tempi di realizzazione. Perché gli appalti pubblici di per sé sono sempre stati lunghi, la vicenda del ponte ne è la dimostrazione. Quindi cercheremo, assicura Candia, di ottenere certezze affinché vengano contratti o quantomeno garantiti, chiederemo quel confronto tecnico che ci assicuri che i lavori, una volta avviati, possano procedere senza interruzioni notturne e festive. Questo in previsione della sopravvenienza della stagione estiva. Ancora più determinato, l'intervento di Rosario Rocca, sindaco di Benestare e presidente del Comitato dei Sindaci della Locride, secondo il quale bisogna stabilire un rapporto di interlocuzione con gli attori istituzionali che devono dare delle risposte. Le esigenze di questo territorio, afferma Rosario Rocca, non possono ancora essere messe all'angolo dalle pastoie burocratiche, da giustificazioni o per sui tali che da anni ci vengono ripetute ai tavoli istituzionali. Il Comitato dei Sindaci, evidenzia ancora Rocca, in questa fase ristabilirà appunto un rapporto nuovo di interlocuzione con la disponibilità ad offrire ogni necessario contributo, ma stigmatizza, pretendiamo, altrettanta disponibilità. Non possiamo, insiste Rocca, non porre all'attenzione la questione del Ponte Allaro. In merito, debbono darci tempi certi. Devono darci delle risposte perché il popolo della Locride non può essere stromesso da una discussione che avviene solo a livello di palazzo e con il rimpallo delle tecnograzie che non hanno saputo dare risposte fino ad oggi.